Ciao amici, tutto bene? Tutto bene? Beh, insomma, se va bene per voi io sono ben contento, perché oggi ci sono una serie di questioni delle quali io vi voglio parlare, vi devo parlare, perché innanzitutto non le troverete sul Tg1, anzi il Tg1 l'ha proprio nascosta, l'ha proprio nascosta, di una questione, dell'altra se ne è parlato, ma lo strano il servizio del Tg1, mi risulta, Tg1, visto che i grillini devono stare lontani, la politica deve stare lontana dalla RAI, il Tg1, il direttore del Tg1 è stato nominato dai grillini, capito? Devono stare lontani dalla RAI, la politica è lontana dalla RAI, e infatti il servizio del Tg1 mi pare sia partito con l'opposizione che ce l'aveva con un personaggio di dubbio gusto, cioè qualcuno lo paragonerebbe a uno sciacallo, io anch'io ho scritto qua sopra che è uno sciacallo, ma forse uno sterco orario è più adeguato per paragonare in maniera politica e animale, l'animalesco gesto di oggi di un politico, quindi l'animalesco gesto promosso in chiave politica di uno sterco orario, guardate un po' cos'è, lui sicuramente dovrà andare a vederlo e non si stupirà di quello che noi pensiamo di lui. Ma io ci arrivo, ci arrivo, anzi vi chiedo gentilmente ciao da Manfredonia, ciao Andrea, ciao Andrea, ciao Adamo, ciao Francesco, Salvatore, ciao Maria, condividete, condividete questa diretta in basso a destra, schiacci condividi, perché io vi parlo di cose oggi, vi parlo di cose, l'altro giorno abbiamo descritto, letto le parole del ministro Lamorgese, ieri abbiamo parlato d'altro, oggi parliamo di quello di cui non vi parleranno i principali telegiornali probabilmente, i giornali domani magari non lo riporteranno, lo riporteranno così in settantaquattresima pagina, ma io vi parlo della verità, la verità di oggi, il quotidiano, la verità, ciao Roberta, ciao Lanfranco, condividete, condividete, aumentiamo, aumentiamo un po' perché siamo ancora un po' pochi, aumentiamo, condividete, mettete questa diretta nelle pagine, magari avete un amico grillino, perché poi ci arriviamo ai grillini di oggi, cosa è successo oggi alla Camera, delle scene imbarazzanti dal punto di vista politico, istituzionale, ma soprattutto umano, perché avere il coraggio di camminare su decine di migliaia di morti da Covid è una cosa che non è solo vergognosa, squallida, imbarazzante, neanche animalesca, perché neanche gli animali arriverebbero a tanto, sì oggi sono un po' arrabbiato, quindi magari esagererò anche nelle parole, per favore non fatelo voi, mi raccomando, siamo educati, pacifici, democratici e col sorriso, però francamente oggi un po' i nervi si sono scaldati, perché hanno parlato, hanno osato parlare dei morti, Lombardi, Veneti, Emiliano Romagnoli da Covid, tirandoli in mezzo per una ragione politica, ed è una cosa di uno squallore, di una disumanità tale, che qualifica chiaramente coloro i quali si permettono di arrivare a tanto. La verità, ciao, ciao Svetlana, ciao Ernesto, condividete, condividete ancora, perché io sono certo che oggi saremo in tanti, saremo in tanti a parlare dell'articolo della verità, Matteo Salvini è un signore, io vi dico, Matteo è un amico, ok? E a volte esagera ad essere troppo signore, oggi ha fatto un intervento al senato magistrale, nel quale ha fatto riferimento a quanto viene raccontato con uno scoop oggi dalla verità, e Matteo, Matteo ha sbagliato ad essere troppo signore, troppo signore. Sì perché, cioè a un certo punto, io infatti lo invidio per il fatto che sia una persona molto decisa, ma riesca a mantenere anche in situazioni molto, molto, molto critiche e tese, un equilibrio invidiabile. Io probabilmente non ce la farei, infatti vi dico che io ci sarei andato giù un po' più duro, ma lui è un signore e dal punto di vista istituzionale era nel senato della repubblica, ha rispettato il senato della repubblica, bisognerà arrivare a quello che diremo noi. Ciao Marco, ciao Maria, condividete, schiacci in basso a destra, condividi, condividi, siamo ancora un po' pochi, aumentiamo ancora un po', aumentiamo ancora un po', dovrebbe cominciare a querelare, hai ragione Elisa, hai ragione Elisa, noi cominciamo a querelare, ma siccome quello che vi racconta la verità è, lo scoop della verità è che sostanzialmente la magistratura è una parte della magistratura, ma una parte molto importante è politicizzata, tu quereli e chi giudica poi? I magistrati e quindi le querele, come potete immaginare, finiscono, molte querele finiscono, finiscono, come i fiumi che finiscono nel mare, arrivano alla foce e sono spariti. Avanti tutta, il popolo c'è, grazie Antonella, condividi e di di condividere pure ai tuoi amici, perché appena arriviamo, ciao Luigi da Stoccarda, grande, condividi anche con gli amici tedeschi, magari qualcuno che parla italiano lo troviamo e ci capisce, perché noi non siamo arrabbiati con gli amici tedeschi, ma siamo arrabbiati col governo della Germania, ma soprattutto con i governi italiani, che di fronte al governo tedesco che giustamente fa gli interessi dei tedeschi, il governo italiano, zero. Ecco qua, siamo arrivati al numero giusto, al numero di partenza, condividete, perché dobbiamo condividere, essere in tanti, in questa domanda, che è la lettura dello scoop di oggi della verità. Se non l'avete comprato, fate un'opera civica, andate, se manca ancora un'oretta, la chiusura, non so, 40 minuti della chiusura delle edicole, comprate la verità, perché è cosa buona e giusta, fa bene alla salute, a volte fa un po' male al fegato, perché ti dice talmente tanta verità che la verità può fare male in due direzioni, in quello che la riceve la verità e che non vorrebbe sentirla e in quello che legge la verità e non avrebbe mai pensato che la bastardaggine della gente arrivasse a certi livelli. Eppure siamo a questo. Oggi sono un po' arrabbiato, sì, lo ammetto, sono arrabbiato. Allora, titolo, vi ho fatto vedere la testata della verità, adesso vi faccio vedere il titolo. Le chat dei magistrati su Salvini ha ragione, però va attaccato. Hai capito? Ha ragione, ma va attaccato. Su quale tema? Chiaramente sulle indagini che lo vedono vittima, più che protagonista, vittima, e cioè le famose indagini riguardanti il blocco delle navi che portavano gli immigrati clandestini verso l'Italia, quindi le varie indagini, una serie di indagini, che lo vedono vittima e peraltro accusato di reati gravissimi, tra cui il sequestro di persona, peraltro per aggiungerci il carico pure di minore. La chat pagina 2 della verità, ve lo leggo, Morelli ve lo legge, poi voi magari tutti assieme commentiamo, io ci aggiungerò dopo, alla fine ci aggiungo qualcosa di mio. Certo che si legge storto, caro Marco, però questa è la possibilità che abbiamo. Mi auguro, mi auguro che voi compriate la verità, perché la verità in questi giorni sta, ma spesso, ci dice delle cose che a volte non trovate da nessun'altra parte. Le chat delle toghe su Salvini, anche se ha ragione lui, adesso dobbiamo attaccarlo. Cioè i magistrati si chattavano, il messaggino Whatsapp, e qualcuno li ha sgamati e questo si dicevano nelle chat. Anche se ha ragione lui, adesso dobbiamo attaccarlo. Nei messaggi sul DL Sicurezza, la Ferramosca, associazione Nazionale Magistrati, se la prende con i colleghi poco antileghisti, cioè un magistrato dell'Associazione Nazionale Magistrati, Ferramosca, se la prende con i colleghi poco, secondo lei, poco antileghisti, che definisce un'accordata pericolosissima. Siete poco antileghisti, cioè tutti siete antileghisti, ma voi che siete poco antileghisti siete un'accordata pericolosissima. Eppure la cena con Matteo diventa un guaio, la cena con Matteo Salvini. Allora, grazie a Simone Di Meo, che è il collega giornalista che firma questo testo, grazie chiaramente a Maurizio Belpietro, direttore della Verità. Vi leggo, ve lo leggo, poi ognuno si faccia le sue idee. Mi dispiace dover dire che non vedo veramente dove Salvini stia sbagliando. Illegittimamente si cerca di entrare in Italia e il ministro dell'interno interviene perché questo non avvenga. E non capisco che cosa c'entri la procura di Agrigento. Questo dal punto di vista tecnico al di là del lato politico. Tienilo per te, ma sbaglio. Confidando nella segretezza i Whatsapp, così ragionava non un ultraleghista, ma il capo della procura di Viterbo, Paolo Auriemma. Paolo Auriemma, capo della procura di Viterbo, diceva queste cose. A rispondergli Luca Palamara. Non so se avete, vi ricordate della indagine che ha visto questo personaggio, che è un magistrato all'interno delle varie correnti della magistratura che gestisce la magistratura. Questo Palamara oggi indagato a Perugia per corruzione. No, hai ragione, risponde Palamara al capo della procura di Viterbo. No hai ragione, ma ora bisogna attaccarlo. Scusa? C'è un magistrato che dice ma come mai stanno indagando su un ministro dell'interno che ha difeso i confini nazionali? Scusa, mi sembra una cosa grave dal punto di vista tecnico al di là di quello politico e chiaramente da quello politico Salvini è un delinquente, no? Dal punto di vista politico, ma da quello tecnico, da magistrato ti dico ma perché lo si indaga? E Palamara dice, gli risponde hai ragione, ma ora bisogna attaccarlo. Già qua potremmo chiudere, salutarci e dirci ragazzi guardate in che mani siamo. No, la verità non racconta balle Stefano perché queste sono intercettazioni e ci sono i virgolettati. Oggi non ci sono state dichiarazioni né denunce nei confronti della verità, dunque se qualcuno aveva qualcosa da dire faceva un bel comunicato stampa per dire agli italiani, a Morelli, a voi, a Ivan che è qua di fianco a me, a Gianni, Pino, Franco o Maria che non era così. Perché non l'hanno fatto? Perché evidentemente. Andiamo avanti. Le loro e le altre e tante altre chat sono agli atti dell'inchiesta ombra che ha terremotato il CSM. Auriemma, non indagato, dissente però dalla pugnace proposta del boss di Unicost, che è appunto una delle branche, delle fazioni interne alla magistratura. Siamo all'agosto 2018 a replica a sua volta e replica a sua volta comunque una cazzata. Cioè questo lo scrive un magistrato, è il capo della procura di Perugia a Palamara. Tutti i magistrati, riferendosi al comportamento dei magistrati nei confronti di Salvini. Comunque è una cazzata atroce attaccarlo adesso. Perché tutti la pensano come lui. Non perché c'è un raggiamento di tecnico, di giuridico. No, ma perché la gente la pensa come lui. Quindi non è conveniente dal punto di vista politico oggi attaccarlo. Questi sono magistrati, sono quelli che decidono sulla nostra libertà. Hai capito? Sono gli unici che possono dire, a parte il Premier Conte, che solo attraverso i DPCM, cioè i CPTP, cioè i CCCP, l'Unione Sovietica che ha instaurato in questo paese negli ultimi tre mesi, solo loro possono limitare la nostra libertà. Tutti pensano che ha fatto benissimo a bloccare i migranti, che avrebbero dovuto portare di nuovo da dove erano partiti. Auriemma teme che la difesa dell'immigrazione a opera della magistratura possa prosciugarne l'appoggio sociale. E anche su Matteo Salvini, finito nel mirino dei PM siciliani, è tranchante. Indagato per non aver permesso l'ingresso a soggetti invasori, siamo indifendibili, indifendibili, lo ripete anche, perché io ho letto esattamente, ve lo rileggo, esattamente quello che dice lui tra virgolette. Indagato per non aver permesso l'ingresso a soggetti invasori, siamo indifendibili, indifendibili. Hai capito? Tu che mi stai guardando, hai capito? Se la pensi come Salvini, evviva, hai visto, è la dimostrazione che la magistratura è politicizzata, ce l'hanno con Matteo, eccetera, eccetera. Se non la pensi come Salvini, sappi che quello che stiamo leggendo e che è lo scoop di oggi della verità, grazie a Belpietro che l'ha pubblicato, è gravissimo. Perché tu la puoi pensare come cacchio vuoi, ma questi sono i magistrati italiani, quelli che decidono della tua, della nostra, della libertà. Ok? Anche se non la pensi come Salvini, sappi che è una cosa molto grave e se non lo capisci hai dei problemi, hai dei problemi grossi. Lo sbarco della nave 18 è al centro pure dello scampio di battute con Renato Panvino all'epoca, capo centro della direzione investigativa antimafia di Catania, citato nelle carte dell'inchiesta perugina non indagato, per l'acquisto di un anello da regalare a un'amica dello stesso Palamara. Lui e il PM discutono della competenza delle procure di Agrigento e Catania e Palamara confessa che è una cosa complessa, sarà comunque un casino. Al Panvino che chi osa? Io credo che rafforzano Salvini così, incassando analogo convincimento dal suo interlocutore, lo temo anche io. Cioè la preoccupazione di tutti questi giudici non era se dal punto di vista giuridico fosse semplicemente regolare attuare un'azione di magistratura nei confronti del ministro. No, questi pensano solo al risvolto politico e alla valenza sulla comunicazione e l'opinione pubblica delle azioni della magistratura politica e della magistratura nei confronti del politico ministro capo della Lega Matteo Salvini. Hai capito in che mani siamo? No ma Matteo oggi ha fatto questo discorso al Senato, ragazzi, cioè è veramente un signore con la S maiuscola, c'è uno che ha addosso tutta quella roba lì, c'è una serie di reati, accuse di reati pazzesche, 15 anni di carcere, pericoli, 15 anni di carcere eccetera eccetera, legge queste cose e non impazzisce. Matteo, sei un grande, io non ce la farei. Palamara che per anni è stato idolatrato dai magistrati di sinistra, questo lo scrive il collega Simone Dimeo della verità, io lo riporto, perché almeno non lo dice Morelli. Palamara che per anni è stato idolatrato dai magistrati di sinistra per le sue pose progressiste, ma oggi ci risulta che la sua delusione per come è stato scaricato dai vecchi compagni di Ventura sia forte e il pentimento altrettanto pungente, ci dispiace, se si è pentito, ci dispiace per lui. Nelle chat non nasconde il suo disagio in presenza del leader del Carroccio e in più occasioni ha evitato di incrociarlo. Ne parla sia con l'ex presidente, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, cioè il massimo organo di rappresentanza dei magistrati, Francesco Misci, senti cosa gli scrive, senti, Massimo, fermati lì, Massimo, Carolina, Salvatore, fermatevi, sedetevi, condividete, tastino in basso a destra, condividete e sentite che cosa dicono questi qua. Questo Palamara mandando il messaggino all'ex presidente del massimo organo di rappresentanza dei magistrati, l'Associazione Nazionale Magistrati, Francesco Minisci. C'è anche quella merda di Salvini, ma mi sono nascosto. Certo, perché chi si nasconde notoriamente non è una merda. Sia con il consigliere del CSM, Nicola Clivio. Cazzo, ho Salvini davanti. Questi si scrivono su Whatsapp queste cose. Il gruppo Whatsapp di famiglia avvisa addirittura la mamma, mentre in coda all'aeroporto. Questo è sempre Palamara, eh? Salvini davanti a me, controlli che ci inquadrano, controlli, se ci inquadrano sarebbe la fine, scrive lui. E lei le risponde, la donna, la mamma di lui, lo sarebbe per te. Poco dopo Palamara, che intanto è salito a bordo dell'aereo, le segnala, Salvini sul mio stesso aereo, posti a metà aereo, bisogna riconoscere che su questo sono imbattibili. Cioè, Salvini, da sempre, anche a me è capitato di incrociarlo in aereo, casualmente, a prendergli i posti che gli capitano. A metà aereo, non quelli in prima classe, non in quella, nella super VIP, non va dove ci sono i piloti. Gli capita e si siede lì. Vi ricorderete di una simpatica ragazzina che, siccome nell'oretta di viaggio tra Milano e Roma, o per andare anche un po' più distante, magari capita a persone che lavorano molto di essere stanchi e di farsi l'abbiocchino durante il volo, la simpatica signorina che fece la foto. Vi ricordate? Beh, di certo non era una signorina che aveva di fianco sette uomini di scorta, non era in prima classe, non era, era in un posto normale. Hai capito? Chissà il Palamara dove era, se era in prima classe o se era vicino a Salvini. Non era vicino a Salvini, perché sennò si sarebbero visti. Eh ragazzi, la signora gli dà ragione, lo so. Palamara si interessa anche dei destini della Lega Nord, della Lega Nord, una chiacchiera con il consiglio di Cassazione, gli manda dei pdf eccetera eccetera. Eh ragazzi, fino a un certo punto, quando? Eccolo qua. Il General Manager della Nazionale di Calciatori, Livio Lozzi, gli scrive a bruciapelo Arginiamo Salvini. Adesso che cazzo c'entra il General Manager della Nazionale di Calciatori Attori con Palamara e che scriva su Salvini, boh, e che gli dica Arginiamo Salvini. Già uno che conosce un magistrato e gli dice Arginate, Arginiamo Salvini, non va bene, non va bene. Però a questi, sai, che gli frega, lo fanno. Il leghista spunta pure nei dialoghi con l'ex procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, quindi sempre magistratucoli di terza categoria dell'ultima, proprio dell'ultima, ultimissima sezione italiana. Invece in questo caso l'ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, indagato a Perugia per rivelazione di segreto. Il 15 gennaio 2018 l'ermellino discute con Palamara dell'incontro conviviale che l'associazione, fino a prova contraria, della giornalista Annalisa Chirico, ciao Annalisa, ha organizzato per quella sera con imprenditori, politici giornalisti e toghi illustri. Palamara invia all'amico un articolo intitolato i PM stiano lontani da quelle cene, Fuzio vorrebbe andare, io ci rifletterei, tra virgolette questo, lo sconsiglia Palamara, io non vado, le scrivo, Fuzio invia un link, in tv forte polemica per Di Maio che chiede a Salvini non andare a quella cena, appunto risponde il PM sotto inchiesta, il PM è Palamara, alla fine anche Fuzio diserterà. Insomma, è eccezionale, è eccezionale. Voglio leggervi altre cose, sì, perché c'era, c'è di mezzo anche Berlusconi, perché nel passato tutti questi erano pure contro Berlusconi. Eccolo qua. Si fa ancora accenno a Salvini, la ciatra Palamara e Bianca Ferra Mosca, componente della giunta esecutiva dell'Associazione Nazionale Magistrati, che il 25 novembre 2018 si rivolge tutta l'armata a Luca Mio, Luca Palamara, per segnalare che nel parlamentino delle toghe qualcuno ha osato addirittura dare ragione al leader leghista. Cioè, ma siamo pazzi? Cioè, dei magistrati che danno ragione dal punto di vista tecnico al leghista. E' il caso di Antonio San Germano, uno degli inquirenti del caso Rubi, Rubi Rubacuori, vi ricordate? E per questo difficilmente tacciabili simpatia destrossa. Racconta la Ferra Mosca. Oggi San Germano ha fatto intervento in CDC, Comitato Direttivo Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, praticamente contro di me, perorando una linea filogovernativa sul DL Sicurezza. Un fatto che ha i suoi occhi assolutamente censurabili, tant'è che poi aggiunge quasi sollevata, in separata sede, eh? In separata sede. Ma davanti a tutti quelli del gruppo, opposto alla questione, ha avuto l'appoggio di una buona parte di noi. La sua condanna è senza appello. L'accordata San Germano-Saracco, Antonio Saracco, dimessosi nel dicembre 2019, proprio in polemica per la gestione del caso Palamara, è pericolosissima. Su San Germano si era soffermato in precedenza Nicola Pure, Nicola Di Grazia, giudice di Tivoli, ed esponente del cartello progressista di area a altra parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, in particolare commentando l'intervista che il magistrato milanese aveva lasciato nel luglio 17 al giornale, in cui accusava Davigo di populismo giudiziario. Insomma, avete capito? Sergio, dai, commentiamo assieme. Commentate, commentate un po' di questa roba. Questo è lo scoop di oggi della verità, che io sinceramente vi consiglio di comprare, perché io ve l'ho detto velocemente. Questo va tenuto, va tenuto perché poi più avanti, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, mesi, salterà ancora fuori chiaramente tutto questo caso, perché come sapete, Matteo, mi sembra, a luglio è stato chiamato e dovrà andare davanti ai giudici. Tu pensa un uomo, una persona, lascia stare Matteo Salvini, una persona che sa di essere al centro di chat come queste dei magistrati che possono decidere su di lui, sul suo futuro. Con quale spirito accetta di essere giudicato da queste persone? Il nome del popolo italiano? Non lo so, con quale spirito? Voi con quale spirito vi fareste giudicare da questi personaggi, dal Palamara, in Company, per il Palamara è solo un PM, non è un giudice. Ascolta Telese, hai ragione, ascolta Telese, mi spieghi la questione? L'ho perso, scusate, ma non dovrebbe intervenire il Presidente? Il Presidente della Repubblica. Magari, magari, magari qualcuno intervenisse sui DCPC, CPM, CCCP, è intervenuta la Presidente della Corte Costituzionale, ma anche nell'ultimo decreto c'è il DCP, CCCPPM, anzi, anche nell'ultimo DCCPM ci sono delle limitazioni alle nostre libertà, come quello di manifestare, dei luoghi di culto, eccetera, eccetera. Capito? Non è finita. Cioè, questi sono ancora nell'Unione Sovietica. Allora, adesso però parliamo anche d'altro. Ok, ci siamo un po' ridotti. Dobbiamo riaumentare, perché adesso vi parlo del grillino. Adesso vi parlo del grillino. Aspetta che trovo... Perché mi ero scritto due o tre cose sul grillino? Perché era talmente imbarazzante che è schifosamente fastidioso averlo nei propri file, nei propri... tra i propri neuroni. Gli assoni sono proprio infastiditi. La mielina che circonda gli assoni veramente si liquefa quando pensi che ci siano dei personaggi come quello che vi descriverò adesso. E cioè un parlamentare del Movimento 5 Stelle, tal Ricciardi. Peraltro è vice capogruppo del 5 Stelle, il gruppo più numeroso, sostanzioso alla Camera. Questo Ricciardi, deputato vicino a Fico, ha scatenato la bagarre sul modello Lombardia-Toscano, professione regista teatrale, catapultato alla Camera dopo aver vinto le parlamentarie su Rousseau. Così lo descrive il Corriere della Sera. Con le parole contro la sanità lombarda, ha scatenato una bufera che a Montecitorio non si vedeva da tempo. Allora vi dico che cosa è successo. Questo personaggio, che qualcuno definirebbe uno sciacallo, ma io neanche... Neanche poverini gli sciacalli, cosa c'entrano? Gli sciacalli si nutrono dei corpi di animali che trovano in giro, no? Sono saprofagi. Invece questo è un coprofago. Ed è appunto, secondo me è paragonabile politicamente, per fare un paragone politico al mondo animale, a uno sterco orario. Cercate che cos'è e condividete, condividete. Adrian, Movimento 5 Stelle avanti tutto. Questo personaggio oggi è letteralmente salito sulle decine di migliaia di morti, non solo lombardi, ma delle migliaia di morti veneti, piemontesi, emiliano-romagnoli e di tutto il resto del paese. Perché? Perché intanto ha raccontato una serie di palle, di fake news atomiche, una dopo l'altra. E chiaramente non ci si poteva non aspettare una reazione di fronte a delle bugie raccontate nella massima istituzione di rappresentanza del popolo italiano, assieme al Senato della Repubblica, cioè la Camera dei Deputati. Questo ha raccontato, per esempio, che il famoso ospedale della fiera, quella di Regione Lombardia, che ha costato 21 milioni di euro, secondo questo personaggio ignorante, totalmente ignorante, ma perché, poverino, è limitato, c'è un limite, e dopo vi spiego perché, dice avete buttato via i soldi pubblici. Falso, bugia, falso, fake news, racconta palle, molto semplicemente, agli italiani, anche in diretta televisiva, peraltro, perché quei soldi sono stati tutti privati, tutti privati, e, peraltro, pur ignorante, perché non solo, chiaramente, il Presidente della Regione Lombardia, Tibio Fontana, dichiarò a marzo che quella era una bella iniziativa e che potrebbe essere messa a disposizione del paese, ma il suo alleato di governo, cioè il Ministro Boccia, Ministro Boccia, Partito Democratico, alleato di questo ignorante, patentato e pallista, ha dichiarato che, in un quadro nazionale, quella era una cosa buona e che anche altre regioni stavano lavorando, peraltro, del PD, Toscana e Puglia, stavano lavorando per portare a casa un risultato come questo. Peraltro, vi sottolineo, che anche Marche, che è governata dal PD, e Campania, governata dal PD, De Luca, sicuramente amico del grillino che ho citato prima, non mi ricordo neanche il cognome, hanno realizzato degli ospedali semi, quelli sì, con i soldi pubblici. Però, grazie a Dio, sono stati realizzati, in quel periodo, in quel momento, degli ospedali pubblici per evitare che le terapie intensive degli ospedali, se fosse continuata ad aumentare la curva, fossero ancora più subissate di persone. Cioè, non è che ci voglia molto, certo non bisogna essere infami, bisogna conoscere la realtà, che poi la realtà sia criticabile, ok, criticatela, ma non raccontate bugie. E se le bugie sono sugli operatori sanitari, chi tutti i giorni si è dato da fare e i morti, a quel punto i leghisti si incazzano, perché sono state pestate, sono state pestate decine di migliaia di bare, quelle degli italiani. E farlo in una trasmissione, peraltro rilanciata dalla RAI, nella Camera dei Deputati, è una cosa non squallida, non vergognosa, neanche animalesca. È una cosa indefinibile, indefinibile. Allora, questa è stata solo una delle bugie raccontate da questo tipo, perché, vediamo, allora, questo qua si è lanciato in una serie di robe. Allora, innanzitutto questa, che era in assoluto la più grave. Eccolo qua. L'ospedale, secondo Fontana, 18 marzo, sarà a servizio di tutto il paese, in accordo con Boccia, che sempre 18 marzo, ministro PD, alleato di questo, di questo, l'ospedale in fiera, è un'ottima idea, che però deve essere accordata sul piano nazionale. Questa struttura e altri due siti che hanno proposto la Puglia e la Toscana, diventino un ospedale di terapia intensiva nazionale. Erano tutti d'accordo. Capito? Ignorante. Poi viene riportato anche il caso dell'RSA. E la citazione è di un rappresentante dell'associazione di categoria, che dice, mettere gli anziani coi positivi nell'RSA sostanzialmente è stata una bomba. Vero? Indubbiamente vero. Quello è stato un problema. Certo, se gli amici di questo Ricciardi, cioè i cinesi, ci avessero detto, al posto di nascondere tutto rispetto al Covid, che cosa sarebbe stato utile fare, forse si sarebbe evitato anche quell'errore. Un errore che, lo ricordo a te che mi stai guardando, Edo, Eugenio, tutti quanti, lo dico, ci provo a dirlo a Ricciardi, ma è stata questa una iniziativa, lo dico anche alla 7, oggi ero ospite della 7, ancora hanno tirato fuori il caso del Pio Erbergo Tribuzzo. Sappiate tutti quanti che il Pio Erbergo Tribuzzo non ha aderito alla proposta di Regione Lombardia, quindi sulla scelta del Pio Erbergo Tribuzzo di Regione Lombardia non c'entra un cazzo. Peraltro il Pio Erbergo Tribuzzo, per chi non lo sapesse, basta andare anche qua, visto che gli piace la trasparenza, fatelo, fatelo, 5 stelle, vai sullo statuto del Pio Erbergo Tribuzzo e trovi che la maggioranza del consiglio di gestione del Pio Erbergo Tribuzzo è del Comune di Milano, PD, del quale voi siete alleati, cioè Regione Lombardia ci mette la pila, i danè, i soldi, ma il Comune di Milano ha il maggior numero di rappresentanti all'interno, la Regione ne ha il numero inferiore, capito? I vostri alleati, però fa niente, perché io non voglio polemizzare, diminuire al massimo il numero di contagi, il dramma che stavamo vivendo. Certo, bisogna usare la testa e essere semplicemente umani, capire qual è il limite che non si deve oltrepassare, quello del rispetto dei morti, del rispetto delle decine di migliaia di famiglie che sono state in gravissime difficoltà e che lo sono tuttora, perché prima c'era il problema emergenziale sanitario, che noi abbiamo cercato di contrastare, che noi, che tutti abbiamo cercato di contrastare e oggi c'è il problema economico, problema economico sul quale io da domani, dai prossimi giorni, parto con una vera e propria telenovela nella quale io vi descrivo tutti i giorni un articolo di questa supercazzola del decreto rilancio, che doveva essere decreto aprile, decreto maggio, decreto giù, un rilancio, perché si sarebbero vergognati, perché fino a quel decreto lì doveva essere già pronto ad aprile, non l'hanno fatto. Peraltro vi ricordo che il premier Conte, il signor avvocato del popolo tedesco, fece una conferenza stampa praticamente la settimana scorsa e il decreto l'hanno depositato la settimana dopo, quindi il racconto è partito la settimana scorsa e il decreto l'hanno pubblicato la settimana successiva, lasciando tutti nelle ambasce. Deve cadere questo governo della vergogna? Grazie Deborah, sono sicuro che il 2 giugno sarai virtualmente con noi, perché noi faremo una serie di grandi manifestazioni nei capoluoghi di regione. Eccola qua, Ornella ricorda a Svetlana che il 2 giugno siamo in piazza, saremo in piazza, educati, pacifici, nel rispetto delle regole, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno dice, credi ancora alla tv? Punto di domanda, anzi lo prende come uno sberleffo, non a me ma a un altro nostro amico che sta commentando. Allora, se credete alla tv, oramai c'è un problema. Perché? Perché chi doveva stare lontano dai posti di potere, oggi si sta spartendo i posti di potere, cioè si sono scannati su Bonafede, non perché Bonafede è responsabile politicamente di aver lasciato fuori i boss della mafia 500, non so, 400, 500, cioè un numero spropositato. Si è detto per me, per anni, che c'era il pericolo che i boss, attraverso i contatti anche solo con i parenti nelle visite delle carceri, dessero dei messaggi verso l'esterno delle carceri al resto delle bande mafiose, e tu che cosa fai? Per risolvere la situazione lasci fuori i boss, li mandi a casa loro con tutti i loro parenti. Questo è 5 Stelle Bonafede. Poi non è che Bonafede ha delle responsabilità, non è che hanno litigato perché Bonafede è politicamente responsabile delle rivolte nelle carceri che hanno portato addirittura a dei morti nelle carceri, mi sembra 7, 8, non mi ricordo neanche più quanti morti nelle carceri, cioè carcerati che durante le rivolte sono riusciti ad arrivare alle farmacie degli ospedali, domandatevi come, non lo so, sono riusciti ad aprire gli armadietti blindati delle carceri, prendere il metadone, drogarsi e morire, drogarsi e morire. Allora fosse successo con qualunque altro governo, magari con un governo della Lega e di centro-destra, quel ministro lì lo avrebbero, che ne so, crocifisso in sala mensa, fatto zianamente parlando, chiaramente è una tutta citazione, siccome uno del 5 stelle, pari e patta, cosa è successo? Che si è dimesso il capo del DAP, il capo del DAP chi era? Era un tizio messo da questo qui, da questo Bonafede, si è dimesso anche a causa della rivolta nelle carceri e della scelta di poter allargare le maglie e liberare, dando così la possibilità di liberare, mandandogli agli arresti domiciliari, i mafiosi, questo si è dimesso, ma sapete chi è il capo del DAP? È quello che è stato messo al posto di Di Matteo, perché Di Matteo è quel, oggi membro del CSM, allora PM antimafia, che è stato un guru grillino per tanti anni, proposto, lo stesso Di Matteo viene proposto da Bonafede di fare il capo del DAP, poi questo gli dice dammi un paio di giorni per pensarci, è una cosa bellissima, lo chiama per dirgli sì, accetto, e quello lo interrompe e gli dice guarda mi spiace, ma ho già pensato a un altro, quello che appunto poi ha liberato, ha permesso di liberare, con le sue scelte, ha dato, ha allargato le maglie per poter permettere di liberare gli arresti domiciliari e i mafiosi. Hai capito? Cioè non è che uno lo giudica per tutte queste cose, che sono cose gravissime, siccome l'Italia in giro per il mondo ha il cora purtroppo da alcuni deficienti e sbeffeggiata con la solita frase, no? Italia, pizza, mafia, mandolino. Insomma, proprio per diminuire questa pessima nomea, cosa fa il ministro della giustizia? Nomina questa gente che poi permette ai mafiosi di fare quello che credono. Questo è. Non lo giudicano per quello però, lo giudicano per le poltrone, perché come sapete Italia Viva, i Renziani, ieri non hanno fatto mandare a casa sostanzialmente il Bonafede 5 Stelle, perché si sono messi d'accordo con Conte per prendere due o tre poltrone. Si parla del sottosegretario all'economia o la presidenza della commissione bilancio della Camera per Maratin, 5 Stelle, e di un sottosegretariato alla giustizia per un paio, sono due nomi, sempre Italia Viva. Hai capito? Caro Mario, in che mani siamo? Caro Rossano, in che mani siamo? Cioè voi, caro Renato, anche tu, sei nelle mani di gente che vende la giustizia, vende la giustizia per due poltrone. Questa è la realtà, che poi dici, forse è la poltrona che oggi decidiamo il Presidente della Repubblica. Vabbè, parliamone. Cioè, stiamo dicendo il sottosegretario di sto cavolo, e gli italiani vengono venduti per questa ragione. Torniamo al grillino, perché l'amico grillino accusa la Lombardia di aver causato il taglio dei posti letto nella sanità. Allora, posto che chiaramente il male non si augura a nessuno, a nessuno, e su questo, almeno noi non lo facciamo, sono assolutamente serio. Auguro a tutti di non dover utilizzare le eccellenze della sanità lombarde alle quali oltre 100.000 italiani ogni anno afferiscono l'Istituto Europeo di Oncologia, l'Istituto dei Tumori di Milano, il Monzino e il Cardiologico di Milano, il Besta Neurologico di Milano, ce ne sono tanti altri, dove vanno oltre 100.000 italiani ogni anno, perché riconoscono in queste eccellenze, un benchmark, una roba, un livello che è il più elevato in Italia. Ok? Io spero che tutti, tutti, non ne abbiano mai bisogno, perché parlare male della sanità lombarda oggi è veramente da stronzi. Non ho altre definizioni, perché poi quando c'è qualcosa che va male, cosa fai? Chiami proprio quegli ospedali, che oggi stai in maniera così vergognosa criticando, perché è il sistema lombardo che ha creato quegli ospedali, ok? E poi hai anche il coraggio di chiamarli, è un po' come quelli dei centri sociali che quando vanno davanti ai poliziotti gli dicono sbirro, fai schifo, non ti vergogni, eccetera eccetera, poi però gli rubano in casa e chi cazzo chiamano? Chiamano la fata turchina? Eh? Cappuccetto Rosso, visto che sono comunisti chiamano Cappuccetto Rosso probabilmente. No, chiamano i poliziotti, i carabinieri, magari gli stessi ai quali hanno dato dello stronzo il giorno prima. Questo è, perché poi questi quando devono fare, devono abbaiare, abbaiano come gli sciacalli, poi però si nutrono di altro perché sono coprofagi. Il governo Mario Monti, tanto per dire, dare qualche informazione a questi ignoranti patologici, ontologici, taglia per primo la sanità dando una sforbiciata di ben 6,8 miliardi che si traduce in 7.000 posti letto, 7.000 posti letto. Il governo Monti, lo ricordo, insomma era sostenuto anche dal Partito Democratico che oggi è alleato proprio di questo personaggio che ha parlato male dei morti, che ha villipeso i morti, villipeso il sistema lombardo della sanità, ai quali migliaia di italiani afferiscono quando hanno un problema sanitario e fanno bene perché alle eccellenze lombarde bisogna semplicemente togliere il cappello. Insomma, una serie di tagli della sanità dovute da chi? Dai governi nazionali, dai governi nazionali. Cioè non è che uno può dare la colpa a chiunque, ma non alle regioni per i tagli nella sanità. Uno poi può dire che la sanità sbaglia a spendere dei soldi. Legittimo. Legittimo. E questa è la critica politica. Ma non può accusare del taglio dei posti letto. Quello no, perché il taglio dei posti letto è direttamente dipendente ai tagli sulla sanità fatti dai governi. 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 Ma siccome questi sono ignoranti e non sanno neanche la differenza tra regione, parlamento, governo, non lo sanno. Cioè sono qui, siedono qui, hanno degli stipendi importanti perché sono i rappresentanti del popolo ed è giusto che sia così, che siano rappresentanti del popolo, ma che popolo rappresentano. Cioè tu renditi conto, ma veramente ci sono degli italiani che insomma criticano o godono del fatto che l'ospedale della fiera sia accostato così e ci siano state poche persone. Cioè uno dice, vedete, avete sbagliato a farlo. Cioè uno dovrebbe essere contento del fatto che in un momento emergenziale col governo in appoggio, regione Lombardia e altre regioni creano questo tipo di ospedali, regione Lombardia attraverso fondi privati, 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 uno dovrebbe essere contento che poi gli ospedali non vengono riempiti perché questo significa il di cui, però qua ci vuole, cioè uno deve avere almeno un quoziente intellettivo di 15, che ne so, uno scimpanse che di quoziente intellettivo avrà, non ne ho idea, lo deve avere almeno 15. E invece uno dice, ah vedi, non ci sono state persone, avete buttato via i soldi. No, noi siamo ben contenti che il numero di ospedalizzati all'interno di quella realtà, di quella struttura sia stato basso. Siamo orgogliosi, siamo fortunati, orgogliosi del buonsenso dei nostri concittadini che hanno rispettato le regole e i suggerimenti dei sanitari e quindi hanno, rispettando le regole, hanno evitato l'aumento della pandemia. E dall'altra parte siamo felici perché vuol dire che poca gente ha avuto bisogno di una struttura che potenzialmente poteva essere veramente salvifica rispetto ad altre strutture sanitarie. È chiaro che quella serviva per diminuire il peso sugli ospedali normali perché ricordo a questi ignoranti patologici che non è che l'infarto non c'è più, c'è il Covid e basta, non ci sono più infarti, non ci sono più persone che devono essere operate d'urgenza, non ci sono più realtà che a prescindere dal Covid devono andare all'ospedale. No, non è così. Se lo avete pensato nel vostro sogno del Paese delle Meraviglie di Alice, non è così. C'erano negli ospedali anche le altre persone. Quindi, sgravando gli ospedali dalle persone Covid positive e mettendoli in luoghi chiusi, permettevi agli ospedali di continuare, anzi riaprire, riprendere le visite ambulatoriali, di riprendere un po' tutto. È una cosa assolutamente positiva, giusta e per di più non è che quei letti che hanno comprato questi qua sono talmente scemi che adesso diranno pure che buttiamo via la roba. Non è che il letto che hanno comprato, bello mio, domani lo trovi nella discarica. Svegliati. Quel letto lì lo utilizzeranno per un ospedale pubblico. Quel letto lì sostituiranno i nuovi ospedali. Di chi sto parlando, Tommaso? Sto parlando del grillino che oggi ha pesantemente villipeso i morti da coronavirus Lombardi, Veneti, Piemontesi, Emiliano Romagnoli e tutti gli altri. A villipeso chi in questi mesi si è fatto un mazzo così per reagire a una bomba atomica sanitaria e sta facendo di tutto per non dare risposte dal punto di vista economico, che è la fase 2. Cioè oggi bisogna dare una mano alle persone che sono in estrema difficoltà, cosa che non sta avvenendo. E io dai prossimi giorni vi segnalerò ogni singolo punto del decreto cosiddetto rilancio, perché è una cagata pazzesca. Fantozzi, quindi è una dotta citazione. Quindi adesso io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi giorni, condividete tutti i video di Matteo Salvini, che è un signore, è un signore con la S maiuscola. Ciao.